Mi chiamo Mina Benedetti, soffro di una malattia cronica e vorrei spiegarvi il motivo per cui per me il Covid è ancora un rischio. Io soffro dalla malattia di Crohn, che è una malattia intestinale cronica. La malattia purtroppo porta disturbi intestinali, quali la dissenteria, la perdita di peso, dolore all'addome, vomito, sangue nelle feci. Io ho avuto a che fare con la pandemia del Covid in modo pesante. Prima di me purtroppo ho avuto a che fare mio papà, che è morto proprio per il Covid. La mia paura era stata quella, sinceramente, di fare lo stesso epilogo di mio padre. Sono stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Alzano. Dopo otto giorni mi avevano portato in isolamento in un hotel Covid. E lì è arrivato praticamente il fantasma della malattia di Crohn. Perché oltre a ritrovarmi da sola in questo ambiente asettico, troppo asettico, mi ritrovavo anche a dover far fronte a questi sintomi, a questa paura di ricadere nella malattia di Crohn. Io volevo venire fuori, viva, e non con una depressione e con la malattia di Crohn in fase acuta. E quindi mi sono rivolta un po' a mio papà. Lo sentivo molto presente. E poi piano piano sono riuscita, in primis, a guarire di questo bruciore alla bocca. Poi, con l'aiuto anche della cucina di Grassobio, dove io spiegavo questo problema che avevo, mi facevano arrivare dei piatti un po' particolari e diversi. Ed ecco che io ho ripreso forza, mi sono organizzata e quindi ho fatto 25 giorni di isolamento, che non sono stati pochi. Non sono stati pochi fino a quando i due tamponi, che erano quelli che dovevano risultare negativi, sono risultati negativi e me ne sono potuta andare a casa. Ha lasciato degli strascichi, sì, che sono la mancanza di fiato, tant'è che ho fatto delle visite anche ai polmoni. Una tachicardia abbastanza sentita, tant'è che mi sono fatta per due anni una serie di controlli al cuore. Ha lasciato un cambiamento anche psicologico, la paura di ritrovarmi in una situazione del genere, sola. Io mi auguro che questa cosa non succeda più naturalmente, soprattutto per le persone fragili, che possono essere quelle depresse, quelle che assumono medicine, come io ad esempio assumevo appunto degli immunosoppressori. Ecco, ci deve essere un particolare riguardo, perché questa malattia poteva andare a peggiorare, perché io sono stata anche nel 2011, avevo subito una mastectomia al senno destro e quindi per me era un pensiero anche solo il dover prendere gli appuntamenti in ospedale per fare l'ecodome, l'eco alla mammella, la mammografia, perché era quasi impossibile. E quindi anche quello, in aggiunta, creava un qualcosa di negativo, cosa che non mi piace, perché mi sono sempre, diciamo, voluta distinguere per la positività che tendo ad avere. Però, diciamo, mi ha messo a dura prova.